buongiorno consiglieri seduta della prima commissione permanente sport della quinta circoscrizione del trentuno agosto duemilaventuno sono le ore nove e zero due proseguiamo con l'appello Lo Sardo assente Cavaliere assente Palazzo presente due assenti e un presente prego presidente grazie segretario visto la mancanza del numero legale rinvio la seduta a Franola ok ci vediamo le dieci e due minuti a dopo